Gli oggetti fanno parte della nostra esistenza, sono un qualcosa che ci circonda costantemente. Delle volte però diventano un qualcosa in più, diventano parte della nostra esistenza perché ce ne affezioniamo, probabilmente rappresentano una parte della nostra vita, rappresentano un nostro percorso. E allora, anche se vecchi, vetusti, malandati, decidiamo di portarceli dietro, diventano parte di noi. La storia di oggi ha a che fare con un oggetto, un microscopio e con un personaggio che magari non è estremamente famoso come grandi istologi dell'Ottocento, come Pasteur, Koch o lo stesso Ramon di Kahl, ma che in realtà, grazie a questo microscopio che si portò dietro in tutte le sue ricerche, riuscì ad identificare un meccanocettore e per la prima volta nella storia il vibrione del colera. Sto parlando di Filippo Pacini. Filippo Pacini nasce a Pistoia, in 1816. Non era di nobile oligiri, anzi, era figlio di un calzolaio Francesco. La madre, invece, era una casalinga, come spesso succedeva all'epoca. Bene, Francesco non doveva badare con il suo salario non così elevato, anzi, estremamente basso, solamente a Filippo, ma anzi doveva badare anche alle due figlie che, in realtà, sorelle di Filippo, avevano delle problematiche congenite con cui avevano a che fare, che costavano molto alla famiglia Pacini da un punto di vista sanitario e che le rendevano sostanzialmente inabili per poter lavorare. Questo gravò molto sulla vita di Filippo, che non riuscì mai a sposarsi e dovette, per il resto della vita, finendo poi in disgrazia e in povertà, badare con enormi e gravosi costi alla salute anche delle due sorelle. Nonostante questo, Francesco imponeva al figlio Filippo di frequentare la scuola. Era un ragazzo, infatti, da un certo acume e su questo Francesco ci sperava tanto, anche a costo di perdere parte dei risparmi che la famiglia Pacini aveva e così fece. Fortunatamente, però, il caso fu dalla loro parte. Esisteva un mecenate, tale Niccolò Puccini, che era un grande liberale, sarà destinato ad essere un grande liberale poi dello Stato italiano, e Niccolò Puccini era anche un mecenate, appunto, ma anche un grande filantropo. Ogni anno, infatti, si prendeva sotto la sua ala 30 ragazzi di umili origini della zona del Pistoiese e pagava di sue tasche, all'interno della sua villa, degli insegnamenti scolastici per questi ragazzi. Fra questi, non direttamente fra questi in realtà, ma successivamente, grazie ad un incontro che Pacini ebbe proprio con Niccolò Puccini, Niccolò Puccini si innamorò del suo acume e della sua dedizione allo studio e alla ricerca. Niccolò, sì, Niccolò, infatti, intravedeva in Filippo una dote non di poco conto, la dedizione e lo studio. Grazie anche ai soldi, infatti, ben spesi dalla famiglia Pacini per fargli intraprendere gli studi in medicina attraverso la scuola medico-chirurgica Pistoiese, a 19 anni Pacini fu sovvenzionato e poteva incominciare a fare ricerche, già come studente, all'interno di Villa Scornio, la villa, appunto, di Niccolò Puccini. Quando a Filippo Pacini si aprirono le porte di Villa Scornio, le possibilità aumentarono enormemente. Aveva a disposizione strumentazioni mai viste, microscopi, oggetti dal valore immenso e che avevano un costo esorbitante che lui stesso non poteva permettersi. Le primissime colorazioni istologiche, le primissime forme di microscopio, soprattutto quelli più avanzati per l'epoca, quelli invertiti. All'interno, infatti, degli amici e degli stimatori di Niccolò Puccini c'erano anche grandi menti e geni, come ad esempio Giovanni Battista Mici, uno dei più grandi ingegneri fisici e matematici dell'epoca, almeno nel territorio italico. Ed è proprio qui che arriva il tanto famoso oggetto. Niccolò Puccini, infatti, decise di donare a Filippo Pacini uno dei suoi strumenti più cari, che gli era stato proprio donato da amici. Giovanni Battista Mici, infatti, aveva costruito un microscopio, un microscopio invertito, chimico e fisico, che aveva delle doti enormi per l'epoca e Puccini riuscì e decise, anzi, di donarlo a Filippo Pacini, che sapeva ne avrebbe fatto buon uso e così fece, tanto da portarselo dietro per il resto della vita e con questo condurre tutti i suoi più famosi studi e le sue scoperte. A quel punto, Filippo Pacini e il suo microscopio furono una cosa sola e con queste partirono le ricerche, quelle che lo portarono a diventare tanto famoso. Nel 1835, quando era ancora studente, presentò alla Società Medica Fiorentina la scoperta di un recettore, un meccano-recettore, in grado di essere stimolabile alle pressioni e alle vibrazioni. Si scoprirà successivamente essere parte del senso del tatto, quello che ancora oggi noi tutti proviamo e che è dettato da una serie di recettori, tra questi, appunto, un corpuscolo, poi ribatezzato in suo onore, corpuscolo del Pacini. Grazie alla capacità, infatti, di rispondere alle vibrazioni e alle pressioni, era in grado di riscontrare delle variazioni a livello tattile. E, appunto, questa scoperta passò in sordina, come spesso succedeva per molti studi fatti da studenti all'epoca, ma venne ripresa da grandi clinici, tempo dieci anni. Nel 1844, infatti, Jacob Hennel, uno dei più grandi clinici della Germania dell'epoca, riuscì a riscoprire questo articolo. E' da lì a esaltare le doti dell'allora studente, ma a quel punto medico, Filippo Pacini. Nel frattempo, Filippo aveva fatto carriera, si era infatti formato, era diventato anatomista e insegnava prima anatomia all'interno della scuola medico-chirurgica pistoiese, poi, successivamente, si era spostato a Pisa, dove insegnò anatomia tra il 1844 e il 1846. Proprio a Pisa iniziarono i suoi studi più famosi e più importanti, che lo portarono, nel 1854, di nuovo all'Accademia Medico Fiorentina, al Convenio dell'Accademia Medico Fiorentina, a definire, per la prima volta, la presenza nel colera di alcuni germi, i vibrioni del colera. Il primo, nella storia, ad identificare la causa del colera, appunto. ci volerò circa dieci anni, non furono studi accurati, ma furono studi estremamente precisi su un numero estremamente, purtroppo, limitato, di soggetti, tutti e quattro deceduti, su cui, però, ci fu un'analisi estremamente approfondita, sia da un punto di vista anatomico, sia da un punto di vista istologico. Di questi quattro cadaveri, studiò il sangue, studiò le feci, e studiò i fluidi e i liquidi all'interno della mucosa intestinale e del lume, intestinale e gastrico. E qui trovò una scoperta. Questi liquidi erano, soprattutto le feci, e quelli all'interno dell'intestino, erano ricchi di germi, germi che avevano una forma ben definita. Erano i vibrioni del colera. Questi vibrioni erano in grado di essere tanto presenti che si poteva addirittura misurarli. Li identificò e li misurò, prendendo una misura media, una dimensione media di ognuno di questi. Erano in grado, secondo Pacini, attraverso i suoi studi, di staccare la mucosa dell'intestino, scollandola, scollando le ghiandole di Libercun e scollando, appunto, la parte più superficiale, rendendo di fatto la vita a chi si infettava, impossibile. Per la prima volta, Pacini aveva identificato quella che poteva essere e che poi effettivamente sarà la causa del colera. E sempre per la prima volta, Pacini stesso definì come, probabilmente, non era come si diceva all'epoca, che il colera ci si infettava attraverso la presenza di miasmi presenti nell'aria, quindi attraverso una diffusione tramite l'aria sostanzialmente, ma era semmai dovuta a una trasmissione da individuo a individuo attraverso delle sostanze, che lo stesso Pacini, essendo anche il numero limitato di pazienti, non riuscì ad identificare. Ma, di fatto, non si sbagliava, la diffusione era estremamente diversa rispetto a quella che si prospettava e si teorizzava all'epoca. Anche in questo caso, gli studi di Pacini passarono in sordina e poi vennero ripresi solo a distanza di decenni dopo gli studi di Koch sull'ambito del colera e quando i giochi erano sostanzialmente fatti e Pacini ormai, ahimè, era morto un bel pezzo. Di quello che successe dopo, sappiamo solamente che, ahimè, Pacini cadde in disgrazia col suo stipendio infatti alla fine doveva pagarsi anche le ricerche oltre a mantenere le due sorelle i cui costi da un punto di vista sanitario non erano estremamente, non erano, erano tutt'altro che esigui. Ecco. Niente, io vi ringrazio, spero che questo racconto, questa storia dalla storia della medicina vi sia piaciuta. Si tratta di un personaggio magari meno noto, ai più meno noto dei grandi infettivologi dell'epoca ma che merita di essere conosciuto e merita di essere raccontato in quanto conterraneo e poi un italiano che merita appunto di essere ricordato e apprezzato per le scoperte che ha fatto tra il 1830 e 1870. Io vi ringrazio e vi aspetto se vorrete alla settimana prossima vi chiedo se volete un like e se volete vi rimando anche alle vecchie storie dalla storia della medicina in particolar modo quella dedicata a Buerkit a presto a presto a presto a presto